Stamattina abbiamo fatto il caffè con una nuova caffettiera e non è cosa da poco. Chi usa sempre il caffè ed è affezionato ad una caffettiera che usa da tantissimo tempo sa cosa significhi comprare una nuova caffettiera, quelle nuove di zecca, tutte lucicanti che non danno l'impressione di essere caffettiere che sono già state dentro una casa, dentro una famiglia per anni e anni. Noi abbiamo questa caffettiera da tre e poi una caffettiera da uno e facevamo sempre la caffettiera da tre che però durante la giornata poi ero costretta a rifare diverse volte perché bevo un bel po' di caffè. So che forse dovrei ridurre il consumo di caffè però fino ad allora mi è venuta questa genialata perché non compriamo una caffettiera più grande così la facciamo la mattina e poi man mano durante la giornata io che faccio prendo il caffè rimasto io non bevo espresso quasi mai lo mischio con acqua mi faccio un caffè quello che si chiama americano in un tazzone e quindi poi lo sorseggio durante la giornata però il problema delle caffettiere nuove è che non sono vissute una caffettiera per essere per fare caffè buono deve essere usata tantissimo non bisogna poi lavarla con detersivi quindi il modo in cui io solitamente preparo le nuove caffettiere non mi succede molto spesso ma quando mi succede faccio così anzitutto lascio la caffettiera nuova a macerare un po' di tempo mettendoci la polvere del caffè usata di un caffè che ho fatto dentro il filtro e poi nella parte dove di solito c'è il caffè che si beve metto anche del caffè vecchio che non ho bevuto lo lascio così per un paio di giorni senza toccarlo no non viene la muffa però così che si impregni bene 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 poi faccio un paio di volte il caffè ma non usando il caffè buono che costa un casino di soldi usando caffè usato quindi polvere di caffè già usata quindi faccio giusto per oleare gli ingranaggi della caffettiera quindi faccio un paio di volte due tre volte un caffè finto che poi naturalmente non viene utilizzato e stamattina dopo tutti questi passaggi già diverse settimane che abbiamo comprato la nuova caffettiera per la prima volta abbiamo fatto il caffè da bere in questa caffettiera più grande e devo dire che non è non è malaccio insomma non abbiamo avuto un un moto di disgusto ma che schifo è questo no abbiamo bevuto il caffè e non era niente male quindi oggi ufficialmente si inaugura la stagione della nuova caffettiera che sono sicura ci farà tanti caffè buoni e allieterà soprattutto le vie giornate che potranno adesso risparmiare il tempo di fare una nuova caffettiera grazie grazie